Pierda! La nonna ti vuole dare il regalo. Vieni, vieni, vieni. Guarda, guarda cosa ha preparato la nonna. Ah, un momento. Con questi qui però voglio che tu vada a cena con la tua fidanzata. Va bene, ok. Grazie. Meno male che da McDonald's puoi farti un menù a partire da 5,90 euro. Collezione Calciatori Panini. Non puoi restare fuori dal gioco. Beedle! La fantastica penna piena di magia. Modella, spruzza e il gioco è fatto. Facile, senza sporcare. Costruisci i personaggi Disney Cars e gioca con le tue creazioni. E c'è anche Trilli. La magia delle fatine Disney Fairies. Vidos, solo da... Quizzettone! Le so tutte! 1800 domande, 1800 risposte. Dove abita Colossus? E... al Colosseo! Fai tu un pizzettone! Hai fantasia? Voglia di creare? Fammi uscire! È uscito il Corso di Fumetto di Agostini e Accademia Disney. Dai primi schizzi alle diverse tecniche. Dai consigli di stile alla sceneggiatura. E in più coi fascicoli gli strumenti Faber-Castell. Impara dai personaggi più famosi. Crea un fumetto tutto tuo e pubblicalo sul sito corsofumetto.it. Farei parte della community degli artisti. Fascicole primi strumenti a 2,99 euro. Per saperne di più, deagostiniedicola.it Da McDonald's trovi Arthur e i mini-may. Nell'epimila solo 4 euro. Taratatata! Vicino al tuo cuore di mamma c'è il cuore biologico Ip. Scegliamo per il tuo bambino i migliori ingredienti bio e controlliamo ogni prodotto oltre 260 volte. Ma la cosa più importante per lui è il tuo amore. Ip biologico. Da 50 anni. Il biologico per i bambini. Collezione calciatori panini. Non puoi restare fuori dal gioco. Siamo andati in uno dei nostri Burger King. L'abbiamo portato via tavolini, attrezzature, praticamente tutto. Questo per dimostrarti che la sola cosa di cui hai bisogno è un hamburger da gusto incredibile. Un hamburger cotto alla griglia. Un Whopper. Vai in un Burger King oggi e prova la differenza. Freddino, eh? Sarà lo spiffero. Taglia uno! Sono incinta. Dopo tutti i dubbi. Non sono io. Dopo tutti i tentativi di fuga e le emozioni di una nuova vita. Sono rotte le acque. Eh bene, che ne prenderemo dell'acqua. No, mi sono rotte le acque. Hugh Grant. Salve. Dov'è questo maledetto? Vi è con me. Robin Williams. Tu seguimi. Nine Month. Imprevisti d'amore. Domenica 19.30. Italia 1. Italia 1. Cavalieri, maghi, draghi, eroi, donzelle, dame. La nuova stagione della serie più magica e spettacolare della TV arriva domani sera alle 21.10 in Prima Visione Italia 1. Bene, signore e signori, un forte applauso per la squadra numero due. Italia 1. Amici degli animali, qua la zampa. Arrivano su Italia 1 i cani più spettacolari del mondo. Tutti in gara per aggiudicarsi il prestigioso collare Friskis. Presentano Rossella Brescia, Gianluca Impastato e Pucci per una serata piena di risate e divertimento. I love my dog. Giovedì alle 21.10 su Italia 1. Collezione Calciatori Panini. Non puoi restare fuori dal gioco. Nella radura incantata, ogni piccola Disney Feri dà vita a una meravigliosa magia. Colleziona le 12 patine, tutte nuove e con le ali glitterate. In ogni bustina scopri una patina e una card per ricreare il magico mondo di Trilli. E nella confezione speciale trovi il fantastico lucidalabbra delle Feris. Con tu, Giacomino e Carolina scopri la gioia di fare da mamma due bellissimi gemellini e di giocare con loro. Con tu, Giacomino e Carolina, numero dopo numero, troverai tutto ciò che ti serve per crescerli, educarli e divertirli. Tu, Giacomino e Carolina. È solo in edicola. Collezione Calciatori Panini. Non puoi restare fuori dal gioco. Dino Froz Combat. Un mondo minaccioso. Una sola legge. Quella del più forte. Nuove creature. Nuove battaglie. Dino Froz Combat. Più forti, più agguerriti. Una nuova specie. I temibili animali preistorici. Dino Froz Combat. Quando calano le telebre, la battaglia continua anche al buio. Armati anche tu con le Dino Cards da combattimento. Dino Froz Combat. Catturali tutti. La battaglia per la sopravvivenza è appena iniziata. La nonna ti vuole dare il regalo. Vieni, vieni, vieni. Guarda. Guarda cosa ti ha preparato la nonna. Ah, un momento. Con questi qui però voglio che tu vada a cena con la tua fidanzata. Va bene, ok. Grazie. Meno male che da McDonald's puoi farti un menù a partire da 5,90 euro. Con tu, Giacomino e Carolina scopri la gioia di fare da mamma due bellissimi gemellini e di giocare con loro. Con tu, Giacomino e Carolina, numero dopo numero, troverai tutto ciò che ti serve per crescerli, educarli e divertirli. Tu, Giacomino e Carolina, è solo in edicola. Divertiti, colora e ricolora. Diverti libro, il nuovo libro da colorare. E adesso, diverti libro da lavare. Solo con l'acqua. Lavalo, strizzalo e asciugalo. Il diverti libro torna sempre come nuovo. Scooby-Doo, My Melody, i cuccioli cercamici. I carneti. Diverti libro. Auguri preziosi. Le Angel Friends stanno volendo da te. Ciao. Con il potere nelle ali. Sì, le ali si muovono. E cambiando le ali puoi scendere il loro potere. Giochi preziosi. Collezione Calciatori Panini. Non puoi restare fuori dal gioco. Italia 1! La nuova stagione di House si apre con un'anteprima evento. Doppio episodio. Matto, dalle gare. In prima assoluta. Dottor House, domenica 21 e 25, Italia 1. Lui è House, è in stanza con me. È arrivato il momento. Che entusiasmo qui in studio. È il momento. Questo programma è stato offerto da... MASH Sportswear Il mistero della metavisione. Cosa ci attende nel 2012? Chi era veramente padre Pio? Gli incredibili poteri del più grande fachiro italiano. L'ultima grande puntata di Mistero. Questa sera alle 21 e 10. Su Italia 1. Collezione Calciatori Panini. Non puoi restare fuori dal gioco. Nell'era dura incantata, ogni piccola Disney peri dà vita a una meravigliosa magia. Colleziona le 12 fatine tutte nuove e con le ali glitterate. In ogni bustina scopri una fatina e una card per ricreare il magico mondo di Trilli. E nella confezione speciale trovi il fantastico lucidalabbra delle Ferris. Giochi preziosi. Divertiti, colora e ricolora. Diverti libro, il nuovo libro da colorare. E adesso diverti libro da lavare. Torna sempre come nuovo. Giochi preziosi. CityLine è per un mondo migliore, con tante soluzioni intelligenti. CityLine è tutto il loro mondo. Cercalo nei migliori punti vendita. Camerette Doimo CityLine. Una sorpresa anche nel prezzo. Collezione Calciatori Panini. Non puoi restare fuori dal gioco. Direttamente dalla nuova serie TV arrivano sulla Terra le nuove fate Wings Belivix. Scopri la magia con le due amiche fate, Bloom, Stella, Aisha, Flora, Musa e Tecna. E la nuovissima pata Roxy. Eccole. Pronte per mille magiche avventure. Nuovi abiti splendenti e magiche ali brillanti di Glitter Arcobaleno. Sempre più glamour. Diventa anche tu una di loro e vola nel mondo della magia. Wings Belivix. Le trovi solo nei migliori negozi della Terra. Rainbow Ties Gormiti, con il bracciale di luce, dà inizio alla trasformazione. Posiziona i magici occhi. Solo inserendoli tutti avrai la più sorprendente apparizione. E ora cerca gli occhi custoditi dai Gormiti, mistica armatura. Con il bracciale di luce, da Jig. Vista! Tanti cuccioli soffice neve. Nuovi, ancora più morbidi. Sembrano pelus. Tanti cuccioli cerca amici. Soffice neve qui per te. Ci saranno anche le famiglie. Nuovi cuccioli soffice neve, da Jig. Collezione calciatori panini. Non puoi restare fuori dal gioco. Combat Car. Antichi guardiani incarnati in auto super tecnologiche. Le uniche case che si trasformano in veicoli da combattimento. Potenti e aggressivi. Le Combat Car sono proche a roscontro. Vuoi guidarle verso la battaglia finale? Unisci tre card per comporre la tua Combat Car. Scambia le card e la sfida non avrà fine. Per vincere trova le migliori card e costruisci i supremi guardiani. Crea, carica, combatti. Combat Car. I guardiani stanno cercando te. Giochi preziosi. Italia. Uno. Cavalieri, maghi, draghi, eroi, donzelle, dame. La nuova stagione della serie più magica e spettacolare della TV arriva domani sera alle 21.10 in Prima Visione. Guarda qui, quattro tavole dei Pirates favolose. Anche le mie non sono niente male. C'è Zanzana setata, Calabrones, Mantis. I mini skate trick power sono davvero strepitosi. Si possono vivere mitiche avventure con Morgan, il capo dei Pirates, o Fire, il capo dei Dragones. Sono skater bravissimi e fanno dei trick da paura. Beh, tutti possono diventare campioni. Basta allenarsi con i mini skate trick power. Che collezione! Sei squadre, 48 tavole originali con cui sfidarsi e ogni skate ha una grafica da urlo. E sapete i nomi dei trick? Si possono imparare con le carte skate e ci sono i veri nomi dei trick. E in più si possono collezionare e ci si può anche sfidare. Gli originali trick power li potete trovare in queste bustine. Dentro un finger skate, la carta skate e un mini poster con tutta la collezione. Dai, insegnatemi un nuovo trick. Ti facciamo vedere noi un grande campione in azione. Non ci credo! Questa è ora combo. Oli 360 Chevy D'Out. Bellissimo! E non è finita qui. I vostri finger skate possono diventare favolosi portachiavi. Potete cambiare le ruote e averli sempre diversi. Mentre nella confezione doppia trovate due tavole, due carte skate, un mondo di accessori e in più i mini coni per lo slalom oppure una rampa per saltare. E non perdete la rampa trick power, un vero halfpipe e un rail da maestri. Dai, allora vediamo chi è il più bravo nella gara con i connetti. Per saperne di più e per conoscere tutti i personaggi trick power visitate il sito. Trick power skateboard, mini skate per grandi skater. Scenare, oggi è... Italia 1 Dopo le feste su Italia 1 riprende il gioco dove si vince quando lasci e perdi quando prendi. Ma soprattutto ti diverte sempre. Presentato da Enrico Papi Una fantastica cabrio Con Raffaella Fico Prendere o lasciare Da lunedì 20 e 30 Italia 1 Collezione Calciatori Panini Non puoi restare fuori dal gioco Vuoi fare un disegno? Un grandissimo disegno! Quadernone! Il grande album di Ben 10 di Bakugan dei Gormiti per disegnare grande come te Libera la fantasia con Quadernone! Auguri preziosi! Dinoprotz Combat Nuove creature Nuove battaglie I temibili animali preistorici Una nuova specie Quando calano le tenebre La battaglia continua anche al buio Dinoprotz Combat Catturali tutti! Giochi preziosi! Con tu, Giacomino e Carolina Scopri la gioia di fare da mamma due bellissimi gemellini e di giocare con loro Con tu, Giacomino e Carolina numero dopo numero troverai tutto ciò che ti serve per crescerli, educarli e divertirli Tu, Giacomino e Carolina è solo in edicola Collezione Calciatori Panini non puoi restare fuori dal gioco Sono arrivati i nuovi paciocchini i new generation gli originali nuovi colori nuove bustine tutti con il pannolino paciocchini paciocchini new generation la banda dei bebè ancora più simpatica che c'è Giochi preziosi Vista! Tanti cuccioli soffice neve Nuovi, ancora più morbidi Sembrano peluche Tanti cuccioli cerca amici Soffice neve qui per te Ci saranno anche le famiglie Nuovi cuccioli soffice neve da GIG Collezione Calciatori Panini non puoi restare fuori dal gioco Con tu, Giacomino e Carolina scopri la gioia di fare da mamma due bellissimi gemellini e di giocare con loro Con tu, Giacomino e Carolina numero dopo numero troverai tutto ciò che ti serve per crescerli, educarli e divertirli Tu, Giacomino e Carolina è solo in edicola Bezos! Bezos! La fantastica penna piena di magia Modella, spruzza e il gioco è fatto Facile, senza sporcare Costruisci i personaggi Disney Cars e gioca con le tue creazioni E c'è anche Trilli Bezos! La magia delle fatine Disney Fairies Bezos solo da Giochi preziosi Quizzettone! Le so tutte! 1.800 domande 1.800 risposte Dove abita Colossus? E... Al Colosseo! E con quizzettone! Arrivano le nuove fate Winx Belivix! Winx Belivix! Vola anche tu nel mondo della magia! Trick Power Skateboard Gli originali Allenati in grande stile Scegli la squadra Prendi il tuo mini skate Pirates, Dragones, Ninja Squad Modificalo e diventa il numero uno Collezionali tutti La sfida continua con le carte skate Scopri il mondo Trick Power Colleziona gli originali Giochi preziosi Italia 1 Preparatevi a pomeriggi straordinari Con le avventure del giovane Clark Kent Non è la fine della storia Clark Questo è l'inizio E le magie di una famiglia davvero speciale Necrario Zebrario Lunedì alle 15 in Smallville E alle 15 e 55 in Prima Visione Italia 1 I maghi di Weaver Galoppini In edicola i morbidi cavallini in peluche Puoi pettinarli Li trovi nei barattolini Italia 1 La famiglia russo Tre fratelli con poteri magici E mille modi per usarli male Una famiglia che vi stregherà Riuscite a vedere qualcosa? I maghi di Weaverly Da lunedì alle 15 e 55 in Prima Visione Italia 1 Collezione Calciatori Panini Non puoi restare fuori dal gioco Gormiti Con il bracciale di luce Dai inizio alla trasformazione Posizione ai magici occhi Solo inserendoli tutti Avrai la più sorprendente apparizione E ora cerca gli occhi custoditi dai gormiti MISTICA ARMATURA Con il bracciale di luce Da GIG Vista! Cuccioli Cuccioli Soffice Neve Nuovi, ancora più morbidi Sembrano peluche Tanti cuccioli cerca amici Soffice neve Qui per te Ci saranno anche le famiglie Nuovi Cuccioli Soffice Neve Da GIG Con tu, Giacomino e Carolina Scopri la gioia di fare da mamma Due bellissimi gemellini E di giocare con loro Con tu, Giacomino e Carolina Numero dopo numero Troverai tutto ciò che ti serve Per crescerli, educarli e divertirli Tu, Giacomino e Carolina È solo in edicola Collezione Cacciatori Panini Non puoi restare fuori dal gioco Da McDonald's trovi Arthur e i Minnie May Nell'Happy Meal a solo 4 euro Tarotototo Trick Power Skateboard Gli originali Allenati in grande stile Scegli la squadra Prendi il tuo mini skate Pirates, Dragones, Ninja Squad Modificalo e diventa il numero 1 Conlezionali tutti La sfida continua con le carte skate Scopri il mondo Trick Power Colleziona gli originali Direttamente dalla nuova serie TV Arrivano sulla terra le nuove fate Wings Belivix Scopri la magia con le due amiche fate Bloom, Stella, Aisha, Flora, Musa e Tecna E la nuovissima fata Roxy Eccole! Pronte per mille magiche avventure Nuovi abiti splendenti e magiche ali brillanti di Glitter Arcobaleno Sempre più glamour Diventa anche tu una di loro E vola nel mondo della magia Wings Belivix le trovi solo nei migliori negozi della terra Rainbow Ties Puzzones Benvenuti a Tampo City Una banda di ragazzi che hanno fiato che stramazzi Ma che banda è questa qua? Ti sorprende e poi ti stende Puzzones, Puzzones Vivo chiusi nei bidones I Puzzones sono tanti in una banda di fettenti Per non farti sospettare Non nascondi nel bidone Puzzones, Puzzones E c'è anche un fumetto con le avventure dei Puzzones Disgustose! Puzzones, Puzzones Vivo chiusi nei bidones I Puzzones, la banda che appesta solo da Cic Collezione Calciatori Panini Non puoi restare fuori dal gioco Italia Una Ci canterà I don't want to lose you Sì, è proprio lui È Ra! Con Nicola Savino e Giuliana Moreira è in arrivo la nuova edizione di Matricola MTR Agenato, Sultana Ufo Agenato, Sultana Ufo